Posteriori, invece, probabilmente userebbe un tape dinamico, tieni la posizione così. So, there is one important thing with the tape, if it's for pain. C'è una cosa importante che per il tape, se per il dolore, you need to stick where the pain is. Dovete metterla dove fa male. That's all. Questa è l'unica cosa importante. So, I can just stick a little piece right there and can be okay. Non posso anche solo mettere un pezzo lì, potrebbe essere okay. I'm serious. Vedi, è serio? Or, I can maybe do something that looks like that. Paper of technique, yeah, keep it. As simple. And it's just to interfere with the pain. But if you want with a dynamic tape to unload the tissue, you're better to put it in plantar flexion and diversion. Yes. Okay? Okay. Bye.